Lo aveva detto all'inizio di maggio che fare una riforma non vuol dire imbiancare un po' le cose, ma dargli un'altra forma, organizzarle in modo diverso. Parlando ai membri della plenaria, la prima della segreteria per la comunicazione, Papa Francesco aveva ulteriormente spinto sull'acceleratore di un cambiamento che da molti mesi vede i media vaticani al centro di un grande cantiere. Nuovi i media della Santa Sede perché nuovo, scriveva Francesco nel moto proprio del 2015 che innescava il processo, è il contesto comunicativo in cui tv, radio, carta stampata, web e social si muovono. La multimedialità è la nuova scommessa, ma l'evoluzione digitale è solo la punta dell'iceberg di un mutamento davvero complesso per i media all'ombra della cupola di San Pietro. Per accompagnarne lo sviluppo, il nuovo di Castero Vaticano ha deciso di inaugurare un foglio di comunicazione interno come spiega il suo curatore Don Ariel Baramendi. La newsletter è stata decisa dopo la prima assemblea plenaria che c'è stata qualche mese fa per la segreteria per le comunicazioni e considerando che è una struttura che raggruppa altre nove strutture che già c'erano prima e quindi siamo più di 600 persone in questa segreteria per la comunicazione. Era necessario avere un strumento per fare comunicazione interna, cioè per comunicare e conoscere qual è il processo che stiamo vivendo in questo momento nell'ambito della comunicazione nel Vaticano. Novità fa sempre rima con sperimentazione ed è questo che i produttori dell'informazione vaticana a tutti i livelli stanno vivendo in questa fase di riorganizzazione. La geografia umana e professionale dei media del Papa è in costante riassetto e aggiornamento per arrivare a gestire al meglio la dimensione della multimedialità. Non si può più rispondere diciamo analogicamente a un mondo che è totalmente digitale per così dire, per usare una metafora. Credo che questa riforma non è soltanto tecnologica ma proprio di mente e di spirito per essere aperti alla formazione permanente, a nuovi linguaggi, alla interazione ad esempio. Se la frontiera ha i contorni liquidi di modelli tecnologici e comunicativi in costante evoluzione, Don Ariel ricorda che la missione dei media vaticani è chiara e mutabile come l'evangelica pietra d'angolo. I nuovi linguaggi non cambiano l'essenza del messaggio, lo indirizzano su nuove piste. Strategia comunicativa e strategia tecnologica con un spirito aperto per portare il Vangelo al mondo d'oggi, non più un mondo che è passato. È un mondo con molte sfide che la Santa Sede deve essere pionera, come è sempre stata, a rispondere portando la luce di Cristo, portando il volto di Cristo a spazi di comunicazione che prima non c'erano e che adesso sì.